Aktion! Benvenuti sul canale Canizzavale Las Terrenas. Alcuna buona notizia dopo che il presidente Luisa Binader ayer ha parlato alla popolazione della Repubblica Dominicana in quanto al turismo hai che sostenerlo e garantizzò che nel aeroporto non farà nulla prova obbligatoria a tutti i turisti. Otra buona notizia è che, incluida il seguro che il turista ha, rispondrà anche per il problema del Covid. Se qualcuno ha avuto un problema di salute, la Repubblica Dominicana garantirà per il benestar e potrà quedarsi il turista senza un costo ulteriore, chiaramente fino a che non risolta il problema di salute e regressa a sua nazione. Luisa Binader ha detto che il turismo è la forza di questa nazione e costruiremo un nuovo turismo per il futuro, differente, però perfetto e attrativo per la gente extranjera da fuori. Rafforzaremo la cadena di salute e di sicurezza tra la zona turistica, la zona di Samanà, di Punta Cana, di Bavaro e anche la zona di Pedernale che sarà il nuovo polo attrativo della nazione. Rafforzaremo la cadena di QTSS 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 Rafforzaremo la cadena di QTSS